Salve a tutti ragazzi, sono Gabby Reddyman, in questo video parlo dell'idea che la serie di Gwen Ten, Gwen Tenison, che potrebbe arrivare, anime, di arrivare in futuro, potrebbe essere una serie che siccome potrebbe essere o come Adventure Time, che è per tutti i giovani, oppure la serie viene fatta per tutti gli anime, magari su Netflix, non lo so, ma comunque pare che sia stato confermato che questa serie è in sviluppo, ma credo che non sia il Target, poi si sarà anche un numero della serie di Gwen Ten, ma non so se è vero, comunque speriamo un buon futuro per Gwen Ten, ciao a tutti.